Per questo nuovo video, io sono Kevin e da un po' di tempo che non dicevo questa frase oggi siamo qui tornati per un video incredibile infatti c'è stato questi giorni, l'update perché sapesse l'aggiornamento ho fatto tutto, la reazione, una marea di coppie, stiamo scalando come penso, non so cosa, ho fatto già i miei primi brawl come potete vedere, Shelly, Kenji al momento Boots, Boots è stato difficilissimo, falla mille ho fatto di TR Max, ho alzato come potete vedere tutti dall'account un bordello di coppie, cioè sto a spingere sulla scalata di coppie veramente questa cosa è incredibile infatti questi giorni ci sarà l'evento dove giustamente andrò a fare la reazione agli angeli vs i demoni, ditemi anche voi da che parte state se state con gli angeli o con i demoni, non lo so poi ci sta un delirio nella ladder, in questo momento non so se sia un bug una cosa voluta, ma nelle lobby sono possibili incontrare questi player qui come potete vedere, mi è stato detto che è una cosa che succedeva dal 2017 ma non lo so, non lo so, non ci terrei troppo, è probabile che sia un bug perché come potete vedere qui si incontrano anche pure 10.000 un po' di persone un po' buggate ci sono, ve lo dico, ve lo dico da persona seria tipo questo, questo di nome lui che si trova a ste coppie allora io non penso che sia un bug, adesso vi dico, la motivazione probabilmente perché ragazzi riescano a fare i brawl come potete vedere 902, mi ha playato simile a quello lì poi non so di preciso, come potete vedere si trovano play un po' strani durante le lobby poi non so perché quest'Edgar 891 stavo con una Shelly 520 penso questa cosa, non lo so, non definire la bug non penso che sia un bug però vabbè, si sta scalando un botto tutta la reazione e l'aggiornamento regale io penso che sta cosa di win streak 20 strike con dug è incredibile cioè sono diventato un main dug durante l'aggiornamento penso che questi strike l'hanno dato in base al brawl preferito probabilmente al brawl che avevi in elenco tu hai preferito quindi ti hanno messo quello lì in similitudine forse adesso non lo so comunque vada tutto l'aggiornamento vi dico la mia ci sta come potete vedere se io schiacciassi un 1000 cosa mi dice hai raggiunto l'ultima soglia di Tiofri vincendo guadagnerai Tiofri stagionali Tiofri stagionali ci andranno in queste belle casse io già ho fatto 18 ci sta non penso che vorrei pushare tantissimo queste mega casse ve lo dico nel senso queste casse non è che mi interessano così tanto basta che ci facciamo prima tutti i brawl a mille quasi a mille cioè provo a farli vicino alle mille un po' tutti adesso ci tento pure con i brawl un po' più difficilotto e con calma le faccio con molta molta ma molta calma tanto non c'è fretta giustamente sono a 74.000 coppie un buon record infatti al momento questi sono tutti i miei brawl me li hanno spostati cioè guarda fino a incredibile me li hanno spostati tutti al 42 in su al 42 in su incredibile questo è il mio anno di gioco per chi non sapesse 2021 piccolissimi dettagli stiamo scalando abbastanza forte questi giorni c'è stato un big un bug potete vedere che qui però è stato risolto se voi sapevate si potevano vedere tipo la classificazione questo almeno l'hanno risolto e poi ci sta sto bug sto bug che penso lo aspettavate tutti in sto momento ma ci sono alcuni di device tipo io il prescelto che sono stato scelto a non far funzionare queste queste mappe con questa ambientazione qui io penso questo bug che potete vedere se rompe tutto il gioco crasha tutto sono stato quello che è stato scelto per avere questo bug quindi in automatico non posso giocare in sopravvivenza queste ambientazioni qui come state vedendo guardate quanto si frezza lo schermo se riuscissi almeno a uscire devo fare tutto ricarica esplode tutto quando si mette questa ambientazione qui un bug classico scusatemi sti giorni la mia nel dubbio meglio se lo dico adesso la mia assenza nei video io penso che vi tornerà penso che sti giorni valuto di ritornare di ritornare come ai vecchi tempi scusatemi tantissimo l'assenza giustamente adesso boss veramente mi fa uscire per fortuna che mi ha fatto uscire invece tutte le mappe che non hanno questa ambientazione qui tipo questa qui no tipo queste mappe qui che queste secondo me sono best queste funzionano tutte solo queste io posso giocare in questo periodo e male male perché vorrei vorrei poterle giocare queste mappe qui come si chiama tipo alcune di queste le vorrei pure che giocare baglia degli hamburger posso l'unica sono queste qui tutte rosse tutte rosse che non si possono giocare per alcuni device questo succede perché non supporta il telefono almeno così mi è stato detto poi non lo so se è vero però io penso che questo più che altro verrà risolto è un bug non è la prima volta che vi succede però si spera che sbaggano il gioco vabbè io vi lascio con questo bellissimo dug nella mia lobby incredibile ci salutiamo ai prossimi video quindi ciao belli alla prossima ciao